Ma iniziamo subito a progettare Selezioniamo il piano terra Qui iniziamo a metterci dei muri I muri ce ne sono di vari tipi, poi vedremo come si utilizzano Più semplici sono le pareti verticali Qualsiasi comando architettonico di Alplan Ha uno schema di questo tipo Nel senso che ci sono tutte le opzioni possibili con cui si può creare l'oggetto Muri lineari, rettangolari, curvi, strani, roba del genere E questa icona qua che diventerà molto familiare Sono le proprietà Si apre sempre una finestra di questo tipo In cui vi sono diversi tipi di proprietà Per esempio per il muro si possono fare fino a 5 strati Mettendo per esempio l'intorno con l'isolante Si mette lo spessore, in questo caso 30 cm va bene L'altezza L'altezza è una cosa molto interessante Alplan gestisce le altezze in questo modo Utilizza cioè questi comandi Per ancorare eventualmente le altezze ai livelli standard Inferiore e superiore di ogni quadro Con questo modo Utilizzando questi due comandi Il muro va dal livello inferiore al livello superiore E quindi modificando i livelli il muro lo segue Altrimenti si possono usare questi comandi Per inserire una quota generica Indipendente dai livelli standard Altrimenti si può specificare l'altezza del muro Oppure si può incorare il muro A uno degli oggetti presenti nella scena A noi va benissimo questa Dopodiché vi sono queste tendine In cui vi sono la possibilità di modificare il layer Di modificare i tratteggi rettini Il colore per esempio Possiamo mettere un tratteggio Si può vedere l'oggetto in tridimensione Oppure attraverso una delle viste Molto carino Perfetto Andiamo a inserire questo bel muro Facciamo una villetta così un po' a caso Perché insomma abbiamo poco tempo Allora I muri vengono inseriti In base a questa linea blu Che sarebbe poi la guida La guida La possiamo tenere su uno dei due lati Oppure nella mezzeria Oppure su un punto qualsiasi Se il muro non va bene Ce lo vogliamo dall'altra parte Si può capovolgere Ecco dall'altra parte Facciamo non so una cosa Poi dopodiché Quando si tirano questi muri Si può andare ad inserire il valore numerico In questa zona qui O x e y Oppure un valore numerico Che segue una di queste guide Diciamo tratteggiate Che fanno parte degli snap Che ha anche Alplan Oltre che AutoCAD Facciamo 8 Tipo un 4 Altro 4 Facciamo una cosa un po' così Ecco fatto E poi chiudiamo il muro Una volta creato questo Già possiamo vedere Il nostro muro in 3D Attraverso una fantastica opzione Che è F4 Eccola qua Con F4 si apre questa finestra Di manipolazione Di animazione del modello In cui si può vedere Zoomare e così via F4 vedrete che lo utilizzerete Praticamente ogni secondo Per vedere cosa state facendo Andiamo ora ad inserire il solaio In questo caso il solaio del pieno terra Andiamo nella fantastica funzione solaio E qui andiamo Qui ovviamente Ogni oggetto Architettonico Si può inserire Utilizzando anche le opzioni Di immissione Che significa Che può essere Un'immissione singola Oppure un'immissione multipla Cioè si può Continuare ad inserire oggetti Utilizzando più O utilizzando meno Per sottrarli Fino a che non sia L'oggetto finito Dopodiché premendo invio L'oggetto architettonico È uno unico Insomma Poi ci sono anche altre opzioni Qua da utilizzare E consiglio a tutti Di utilizzare Tutte le funzioni disponibili Di Alplan In modo tale Da conoscere E conoscere soprattutto Le potenzialità Di questo programma Solaio Andiamo a vedere Nelle opzioni Altezza Sempre uguale A quelle del muro Lo schema È sempre quello Lo facciamo partire Da meno 30 cm E lo facciamo Ad arrivare Fino a livello 0 Quindi Gli diamo Un'altezza Di 30 cm E andiamo Ad inserirlo Ora io L'ho inserito Nel layer muri Per vedere Il layer Su cui abbiamo Inserito Un oggetto Basta cliccarci Sopra Col tasto Control Premuto Eccolo qua Queste diciamo Sono le Proprietà Del formato In questo caso Il muro A noi non va bene Perché il nostro solaio Lo vogliamo Nel layer solaio Ecco qua Andiamo ovviamente A vederlo Perché Andiamo ora Ad inserire Le finestre Le finestre Come ogni ossetto architettonico Il layer Il layer In questo caso muri Andiamo a modificarlo Lo mettiamo In finestre Si può rappresentare Il parapetto E l'intradosso L'intradosso Sarebbe Praticamente Quella Zona In cui poi Verrà inserita L'oggetto finestra Perché in questo caso La finestra È soltanto Un'apertura Gli oggetti finestra Sono come quelli Port Sono delle macro Per accedere Alla zona macro Si preme in questa zona Si va ad inserire Una di queste macro Sono macro Predefinite Che si possono anche Scaricare da internet E acquistare Così via Altrimenti Si possono creare Da zero Utilizzando un editor Delle macro Finestre e porte Cosa che faremo noi Le finestre Ne mettiamo Una qua È possibile dare Una distanza Precisa In base anche A quello che sono Le richieste Perché compare Qui un numero Che è la distanza Dal punto di riferimento Il punto di riferimento È questo triangolino Qua che compare Negli angoli O nei punti Interessanti Dell'oggetto A questo punto Questo misura La distanza Fra il punto medio Della finestra Che è quello Che abbiamo voluto Utilizzare come punto Di riferimento E il triangolino 1,637 Lo possiamo per esempio Ammettere a due metri Ecco qui la nostra finestra Premiamo ancora invio Per Finire il comando Dopodiché Questa finestra La possiamo ripetere In un altro punto Copiare Altrimenti Elaborare E poi Copiare Diciamo una volta Che abbiamo completato La finestra La finestra Adesso è solo un forro Dobbiamo andarci dentro E inserire Proprio l'oggetto Finestra Che è una macro Grazie a tutti Grazie a tutti